Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Anna Malbetti. Oggi siamo qui per la giornata del donatore, presso la nostra università, per festeggiare questo momento piacevole di incontro tra i bursisti e i donatori. Perché sei qui oggi? Sono qui perché la mia tesi è stata premiata come migliore tesi in questi ultimi due anni, tutte le tre facoltà, sia di ingegneria, sia di giudicidio di studenza, sia di economia. E questo premio è stato donato dalla Camera del Commercio di Varese, che ringrazio molto. E' per questo motivo che sono qua. Cosa è significato per te essere assegnatario di questa fiducia conferita da questi donatori? Bene, io ho anche ricevuto altri premi, premi di merito, non direttamente dalla Camera del Commercio di Varese, ma da altre associazioni. E' sempre significato una cosa molto importante. Io per fortuna ho sempre avuto una famiglia che mi ha sempre sostenuto, quindi non ho mai avuto problemi economici. e quindi il premio di merito è qualcosa che prima appunto il merito. E' di fondamentale importanza, da mio parere, perché ti ha da un obiettivo, il fatto di essere migliore. Questa qua è una cosa molto importante. Io attualmente lavoro e vedo come quel poco che comunque ho ricevuto dai premi di merito, comunque anche dal mio premio di tesi, sproni come R.A. ad avere l'obiettivo di essere migliore, di raggiungere i risultati alti. E questo è molto importante anche nel mondo lavorativo. Cosa ha significato per te essere una studentessa a Liuc e perché consiglieresti questa università a altri giovani studenti che vogliano intraprendere un percorso di studi? Ha significato moltissimo essere una studentessa a Liuc perché ho fatto tutto. Sono andata in America a fare la Summer School, sono andata in Erasmus in Danimarca, ho fatto tutto quello che potevo. Mi è sempre piaciuto un sacco perché è un'università che ti fa sentire a casa, quindi i professori molto disponibili, tutte le persone che ci lavorano molto disponibili. Questo mi ha aiutato a comunque concludere il mio percorso di studi di 5 anni previsti e quindi di, non so, vivere serenamente l'università, vivendo la piena, perché ho fatto di tutto, ho fatto i percorsi di eccellenza, in generale abbiamo i percorsi di eccellenza, quindi facendo molte cose però con assoluta tranquillità. Ti ringraziamo, ti auguriamo un in bocca al lupo e siamo lieti di vederti già impiegata nel mondo del lavoro così a breve rispetto al tuo conseguimento della laurea. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie a voi.